Il figlio è la maglietta, non è un'altra cosa. Vai, vai. Cassandra! E vai, aiutate! Cassandra! E vai, aiutate! Cassandra! E aiutate! Cassandra! Cassandra! Il megafono. Mi aiutate? E ti aiutavo, tu non un'altra, tu non un'altra. Eh, eh, se ne è andata di là. Siamo scherzando, è vero. Ma siamo scherzando. Inizia, in ukraine, ma stiamo scherzando. Ma Marco, 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 dopo il Giuseppe, dopo il Giuseppe. Benidale, Giuseppe, dai! Madonna mia! Sono Simonetta Spirri, sono Simonetta! come? e canto occhi di Zucker voglio cantare occhi Cassandra, la nostra politica camponina, il nostro abbonazio che risulta di sua vita dopo l'altra presentazione